Un breve video per comunicarvi che in questi giorni, a distanza ormai di quasi 10 anni dalla nascita di questo progetto, anche la GMATFX oggi può avvantare uno spazio, un punto di riferimento ufficiale in cui tutti i traders matematici o aspiranti tali potranno finalmente interagire liberamente, scambiandosi idee, pareri sulle scienze finanziarie, fare amicizia. Da oggi chiunque avrà la possibilità di interagire direttamente con il progetto, esprimere la propria opinione nel massimo rispetto assoluto di chiunque chieda pareri e aiuto a chi orbita intorno a questo progetto in costante crescita da ormai quasi 10 anni. Non ci sono soltanto io, quindi a supporto, ci sono persone che fin dalla fondazione del progetto, ormai lontano 2014, mi seguono dimostrando in tutti questi anni virtù quali costanza, dedizione, lealtà, senso del dovere nei confronti del prossimo e rispetto per il lavoro altrui. Negoziatori infallibili che con discrezione costantemente ogni giorno osservano, studiano il mercato Forex attraverso i piani cartesiani della GMATFX, quindi anche loro rappresentano un piccolo patrimonio di conoscenza e di competenza da cui tu potrai attingere. Vi incoraggio quindi ad interagire attivamente attraverso i canali ufficiali della GMATFX poiché il progetto è dotato di tutte le risorse necessarie per operare in modo autonomo e completo garantendo al contempo una totale trasparenza tra tutti coloro che vi partecipano. Molto importante. La GMATFX oggi è una community ufficiale, la trovate all'interno della GMATFX Academy, quindi siete tutti invitati a partecipare proattivamente nelle discussioni che da qui in poi verranno pubblicate. Non provate imbarazzo nell'esprimere la vostra opinione. Come facciamo quindi ad interagire? È molto semplice. Entriamo in GMATFX Academy, clicchiamo su Community e se desideriamo chiedere qualcosa basterà cliccare in quest'area e ci uscirà questa finestra. Diamo un titolo, scriviamo il testo, nell'eventualità potremmo caricare un'immagine. Quando abbiamo finito, clicchiamo su Post e il nostro intervento verrà pubblicato. In riferimento al post potremmo anche esprimere il nostro apprezzamento e se volessimo interagire con i commenti basterà cliccare sull'icona fumetto. Successivamente a fine lettura potremmo scrivere il nostro pensiero, mi raccomando, in maniera chiara, educata e professionale. Se occorre modificare il testo basterà semplicemente andare su Edit e modificare. Ricordate chi siete e chi vorrete diventare. Quindi mi aspetto, anzi ci aspettiamo di circondarci di educazione, cordialità, collaborazione. Un ambiente in cui tutti vivono serenamente questo percorso di crescita. Ovviamente ricordate che nessuno è tenuto a rispondervi perché anche le risposte vanno in un certo qual modo meritate. Non date per scontato tutto. Quindi ricordatevi sempre di ringraziare chi vi supporta e diventate le persone che desiderate leggere. Mi auguro che anche questo ulteriore strumento sia utile alla vostra crescita nella speranza che nessuno rimanga indietro ovviamente. Qualche pezzo purtroppo lo si perde per strada ma noi continueremo ad andare sempre avanti come dei caterpillar. Lenti sì ma devastanti. Ci si sente dall'altra parte.